20esima edizione macerata per il Festival internazionale del folklore, incontro di cultura popolare. Ad aprire le danze è stata la Folkfest, momento di festa in Piazza della Libertà dove i gruppi internazionali ospiti hanno proposto le loro musiche tipiche, coinvolgendo il pubblico con i loro balli tradizionali. Quest'anno riusciamo a fare anche la Folkfest, questa sera che l'anno scorso non abbiamo potuto fare causa Covid, quindi ritorna anche questa tradizione e da domani invece ripartono gli spettacoli serali, quello di domani sera naturalmente allo Sferisterio alle 21.30. In attesa dello spettacolo all'Arena Sferisterio in cui si esibiranno i gruppi provenienti da Messico, Slovacchia e Ungheria, i ballerini ospiti dell'Associazione Culturale di Pista Coppi si preparano per le proprie singolari esibizioni, in un'atmosfera internazionale che li rende, grazie al linguaggio universale della musica, esempio di integrazione e dialogo interculturale. Si ritorna alla normalità sembra, quindi con tutti i gruppi e con insomma quella che era la tradizione passata, quindi con gli spettacoli nelle varie piazze, saremo poi nei prossimi giorni, saremo a Visso il 20, il 21 saremo a Montelupone, il 22 a Morrovalle, quindi vi aspettiamo. Il 21 agosto inoltre a Macerata alle ore 10, nella chiesa del Buon Pastore a Collevario, il Vescovo Monsignor Nazareno Marconi celebrerà una messa a cui parteciperanno tutti i gruppi indossando i propri costumi tradizionali. Grazie a tutti!